Bentornati a Radio Design, io sono Nicola Palumbo qui dall'Istituto Italiano di Design in centro a Perugia. Oggi presentiamo uno dei nostri docenti, Lorenzo Dogana. Ciao a tutti. Lorenzo è il nostro docente per il corso di Communication Grafing Design in Fotografia, giusto Lorenzo? Fotografia, sì, tutti e tre gli anni. Per tutti e tre gli anni. Allora Lorenzo, raccontaci un pochino chi sei, qual è stata la tua carriera accademica e anche poi quella fotografica. Sì, io ho uno studio di fotografia a Magione e mi occupo dello studio dal 2004, che l'ho ereditato da mio padre, che lui l'ha aperto il prossimo anno, sono 40 anni fa, lo studio di foto. Eh, tanta roba. Di questi tempi. E appunto mi occupo di fotografia soprattutto pubblicitaria, poi anche eventi e progetti di comunicazione in generale. Sì. E anche la didattica è una parte delle attività del mio studio e da tre anni, questo è il quarto anno, insegno fotografia anche qua in istituto. In istituto. Tu però sei un animale ibrido, se mi permetti di dirlo, nel senso che hai avuto una formazione umanistica che poi si è legata a quella fotografica, è giusto? Sì, sì. Io nasco come antropologo, che ho fatto l'università qui a Perugia, fino alla scuola di specializzazione in antropologia, e mi ha servito soprattutto per il taglio, no? Certo. Perché la professione ce l'ho sempre avuta, infatti contemporaneamente al lavoro ho sempre anche studiato. E quindi... Sì, questa cosa magari ti ha aiutato a dare appunto un taglio anche più, visto che l'antropologia è lo studio dell'essere umano, per chi non lo sapesse, perché non andevano mai per scontato, perché mi ricordo che quando iniziò a studiarla io, feci anch'io l'esame di antropologia, per me 20 anni non era così ovvio. Beh, sì, pensi sempre ai fossili, è sempre difficile focalizzare proprio lo studio. Sì, poi feci l'antropologia culturale che è proprio legata allo studio dell'essere umano, ai comportamenti, quindi si lega la grande con le forme d'arte, giusto? Poi tu ti sei occupato anche un po' di arte con una tua associazione. Sì, sì, mi sono occupato con un'associazione che si chiama Zone Cultural Crossing, che è il presidente Maurizio Coccia, di cultura contemporanea. Abbiamo spaziato dalla fotografia, arte contemporanea, progetti soprattutto legati al lago Trasimeno. Sì, che ricordiamo il lago qui vicino a Perugia. Sì, sì, esattamente. E abbiamo fatto dei progetti che sono sfociati anche in progetti europei e è sempre stato uno stimolo in più, no? Uno stimolo in più, certo, certo. Alla fotografia. E poi dicevamo, allora, spieghiamo un attimo anche a livello didattico come strutturi tu la cosa, perché magari chi ci ascolta che vuole diventare magari uno studente dell'istituto, puoi immaginare anche qual è il suo percorso dal primo anno al terzo. Certo, allora, il mio corso è un corso di 40 ore all'anno, quindi abbiamo la possibilità di trattare tante cose. Partiamo il primo anno in cui si incomincia dalla storia della fotografia e quindi tutti i grandi master della fotografia italiana e internazionale, per poi passare anche alla pratica. Quindi incominciamo da prima con il programma Photoshop, quindi dalla base, proprio dall'interfaccia del programma, a cose sempre più approfondite nel corso dei tre anni. Il secondo anno è dedicato più proprio all'utilizzo della macchina, quindi incominciamo a fotografare conoscendo la macchina e quindi anche tutta la tecnica fotografica, la composizione, la lettura della luce. E poi il terzo anno invece ci occupiamo più di un corso di fotografia avanzata, quindi andiamo in studio a fare still life, andiamo a conoscere i flash, andiamo a fare fotografie in tutti gli ambiti, i vari settori, che poi magari si potranno occupare gli studenti quando lavoreranno. Sì, e poi nel secondo anno c'è anche questa cosa che loro fanno un progetto fotografico che poi racchiudono in una sorta di piccolo libro, no? Che viene prodotto, libricino, non so come definirlo. Un elaborato, diciamo. Un elaborato, sì, non si potrebbe definire lì. Perché ho detto questa cosa? Perché proprio in questa settimana presenteremo, avremo due incontri a Umbria Libri, che è un incontro dedicato alla produzione appunto di libri della nostra regione, ma che poi ha anche ospiti come anno internazionali. Come istituto avremo due panel, un panel dedicato al publishing, quindi all'editoria, con i nostri docenti, anche con il docente Pampanelli, Daniele, che voi tutti conoscete, che lo abbiamo già intervistato. E invece il secondo incontro, che è dalle 12 alle 13, sarà con te per parlare proprio del libro fotografico. Sì, certo, parleremo di libro fotografico. È un argomento molto specifico e naturalmente per Umbria Libri abbiamo scelto questo ambito, che è in crescita, in grande crescita in questi tempi. Infatti il libro fotografico sta diventando proprio anche la finalità dei progetti fotografici, che i libri non sono più solo cataloghi delle mostre, ma sono proprio anche dei progetti. E ci sono tante piccole case editrici che stanno pubblicando libri di fotografia, ci sono dei giovani fotografi che hanno pubblicato delle serie limitate di libri che adesso sono introvabili e su eBay si possono acquistare cifre pazzesche. Ci sono tante curiosità che affronteremo sabato. È interessante questa cosa, neanche lo sapevo. Sì, sì, è un ambito che più approfondisce più cose escono. Va bene, quindi senza fare spoiler, noi vi invitiamo a venireci a trovare sabato presso la facoltà di Agraria. Trovate sui nostri canali social tutti i riferimenti all'evento, il luogo, l'aula dove tutto questo avverrà. Penso che riusciremo a fare anche una diretta streaming, salvo imprevisti di Wi-Fi e delirivari, quindi probabilmente ritroverete poi questa, diciamo, mini lezione di un'ora anche su tutti i nostri canali. Allora, grazie ancora Lorenzo. Dacci i tuoi riferimenti, quindi dove possiamo trovare i tuoi lavori, il tuo studio. Ma il mio sito è www.studiodifoto.it. Là c'è un po' il mio portfolio e la mia via e su Facebook. Su Facebook, su vari canali. Va bene, allora grazie mille, è stato interessante e ci vediamo sabato a questo punto. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.